Un concorso ideato dai giovani per i giovani. È stato presentato al comune di Campobasso il contest nato dalla proposta progettuale del Consiglio Comunale dei Ragazzi per sensibilizzare i cittadini e gli studenti della città alla tutela dell'ambiente e al decoro urbano. Quando la bellezza diventa virale, il titolo dell'iniziativa portata avanti dall'amministrazione pentastellata e sposata anche dalle minoranze di Palazzo San Giorgio, destinatari del contest, studenti e studentesse dai 15 ai 19 anni delle scuole superiori della città a cui l'avviso pubblicato chiede di realizzare dei brevi video per Instagram di promozione sociale. I primi tre migliori reel saranno selezionati e premiati. Noi abbiamo parlato di diversi argomenti e quello che è andato per la meglio è stato il reel istituzionale, questo reel di promozione della città di Campobasso e noi ragazzi ci auguriamo che vada per il meglio nel senso che ci sia una forte adesione e che comunque questa idea piaccia anche perché è un momento in cui noi stessi ragazzi possiamo diventare protagonisti e questo deve farci forza. L'iniziativa vuole coinvolgere i ragazzi o meglio fare in modo che siano i ragazzi a promuoversi, è impossibile fare attività di politiche giovanili calandole dall'altro altrimenti c'è poca risposta e questo lo abbiamo già sperimentato in altre occasioni. Abbiamo lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo e il contest non fa altro che far gareggiare questi giovani perché possano realizzare qualcosa che gli piace fare. Poi del resto anche l'iniziativa è una parte della loro esigenza che è quella di comunicare in questo modo che è un modo appunto molto giovane. 20 secondi e massimo un minuto per i video dei giovani campobassani che hanno tempo fino al prossimo 15 febbraio per partecipare al contest di promozione sociale.